Il Termoli sconfitto ancora dopo Chieti anche dalla Vigor Senigallia sul proprio terreno. Una sconfitta che fa sprofondare la compagine giallorossi in una crisi di identità che al momento appare di difficile soluzione. Oggi era chiamata ad un pronto riscatto ma ciò non è accaduto e c'è da dire che aveva anche iniziato bene, ma poi svanito il tutto in un battibaleno. Gli ospiti, marchigiani rosso-blu, oggi in completa tenuta bianca, hanno avuto il pieno controllo della gara. Veniamo alla cronaca, agli ordini del signor Ambrosino di Nola comincia subito il Termoli che al sesto da una prima bella azione d'attacco. Arrivano in aria, ospite, puntoriere, serve la corrente Traini, dribbling di quest'ultimo al tiro e infila il portiere ospite con un tiro all'angolo alla destra del numero uno marchigiano. Nemmeno il tempo di gioire è al decimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la Vigor pareggia con Rotondo che comodamente raccoglie di testa con la difesa del Termoli distratta e infila Pizzella. Oggi sostituto di Palombo. Dopo il pareggio la partita vive un momento di stanca, la risveglia il ventottesimo Mariani che tira un fendente apparentemente innocuo, ma Edoardo, il portiere ospite, para in due tempi ma in pieno controllo. Al ventinovesimo ancora il Termoli con Barone ben lanciato in aria ma non ha il guizzo vincente e si perde l'attimo giusto. Al quarantaduesimo si rivede la Vigor con un tiro dalla distanza che si vila vicino al palo alla destra di Pizzella. Dopo due minuti di recupero si va al riposo. Ripresa che per 16 minuti non produce alcunché, ci pensa Ricci proprio al sedicesimo a riaccenderla con un grande e forte tiro che il portiere della Vigor devia alla grande. Nella stessa azione riprende Galdean da poco entrato, altro tiro interessante ma ancora Edoardo para. Arriva il ventunesimo e la Vigor trova il gol del vantaggio. Presa d'infilata la difesa giallorossa in pressing con Kone che si invola, vede la corrente Ferrara, gli passa la palla e il giocatore si fa 30 metri da solo appena in aria. Con Pizzella disperatamente in uscita lo infila per il 2-1. Da quel momento per il Termoli è notte fonda. Ha avuto una minima reazione ma la Vigor non ha corso più grossi pericoli. Solo subito qualche tentativo finito fuori mestamente. Ora dopo questa sconfitta per il Termoli si apriranno considerazioni importanti. Oggi si è perso davvero una grossa occasione per rimettersi in carreggiata visto anche alcuni interessanti risultati della stessa giornata. Mister Carnevale avrà un duro lavoro davanti a sé per riportare la squadra sui livelli di inizio stagione. Quella vista nelle ultime gare è sicuramente solo una lontanissima parente. Grazie.